Come è venuto? Il dottore sindaco non lo posso chiamare Bene Senatore Io tanto per lo stile che c'ha chi li fa che è abbastanza costante nella figura quindi anche all'altro gli toccherà così E' una frase che un po' dice tutto A un nome di ritardo il Consiglio Comunale sono dietro di poter procedere alla fissione della cattoria di Resinio c'è anche lo ritratto del sindaco di Resinio per due figurature Leopoldo di Girono La prima volta che sono entrato qui poi da fine con questa carrellata di ritratti è la storia della città la storia della città che viene in qualche modo raccontata in immagini di quelli delle persone che hanno voluto dedicare una parte della loro vita alla vera loro sinistra Ma questo significa che il sindaco è proprio la voce rappresentante la comunità proprio l'interfatta primario e quindi il ruolo non affettare si guida nella primità per me è la prima volta che ho rientro in queste sale dopo le mie dimissioni e lo faccio e riprendo un po' la riflessione che faceva il sindaco per una cerimonia che segna una tradizione delle città perché questo roterno ha la galleria dei sindaci insomma la ruta ha anche quella di loro e quindi insomma è una tradizione anche molto più antica dei governi cittadini e come diceva lui il sindaco è una figura particolare a livello istituzionale nasce come espressione del mandato della parte politica ma nel momento in cui indossa la faccia di colore diventa il sindaco della città e vi assicuro che questo è valso per tutti quelli che io ho conosciuto e che stanno con i loro ritrati in questa sala e vale anche per le un'altra chi fa il sindaco oggi lo fa veramente come spesso il servizio alla città più che per scelte e carriere politiche quindi io credo che questi cittadini che lo abbiano compreso proprio perché noi siamo più delle volte in prima linea e a volte spesso anche diciamo senza avere le spalle coperte se non da chi ci sta vicino nella mezza allora posso fare la matura questa è la quarta cerimonia in cui lo riesco dell'attissione dei sindaco perché io ne ho visti già quattro e spero di essere presente e io posso spero di essere presente da otto anche fra otto ogni quando vediamo un po' il sindaco ora vieni grazie grazie Grazie.